siamo qua in diretta dai microfoni di radio sharewood con un ospite che da queste parti insomma una faccia nota quindi non ha bisogno di grandi presentazioni andrea fumagalli docente all'università di pavia e membro del collettivo di effimera allora noi ci stiamo preparando al dibattito che avrà luogo dopo sul secondo palco del festival ma facciamo ora un'intervista che va un pochino a fare la summa del sapere sulla economia e la finanza perlomeno dall'ultimo decennio a questa parte quindi insomma in un quarto d'ora ce la caviamo senza problemi allora la prima domanda che io volevo farti in quanto attento osservatore delle tendenze economiche ma anche delle lotte politiche da cui in qualche modo queste tendenze economiche derivano nel bene e soprattutto ultimamente nel male noi abbiamo visto due grandi spartiacque storici nell'ultimo perlomeno gli ultimi 15 anni insomma il primo è stato quello della crisi finanziaria del 2008 in cui in qualche modo anche nel modo di parlare si diceva prima della crisi dopo la crisi insomma è rimasto nella memoria collettiva e adesso chiaramente la crisi pandemica nella quale siamo ancora immersi in quest'arco di tempo quali sono state le tendenze se noi ci guardiamo indietro da questo punto a quest'altro punto tra questi due spartiacque storici storici che secondo te sono più degne di nota e che bisogna tenere d'occhio ma credo che innanzitutto un ringraziamento a tutti a tutti grazie per l'ospitalità credo che la crisi del 2007 2008 abbia evidenziato come quel processo di finanziarizzazione che doveva garantire una certa stabilità basato su un certo ordine economico un ordine economico che possiamo riassumere adesso in maniera molto transciante supremazia dei mercati finanziari capacità dei mercati finanziari di svolgere attività redistributive peggiorando la distribuzione del reddito ma nel contempo dando l'infa all'attività a nuove forme del processo di accumulazione beh la crisi del 2007 2008 ha segnato in un certo senso uno stop verso questa tendenza delle magnifiche sorti progressive della globalizzazione e della finanziarizzazione già messi in crisi anche dai movimenti precedenti della crisi del 2007 oggi quest'anno è inutile dirlo è il ventennale del G8 di Genova e di tutto quel movimento alter globa che ha caratterizzato quegli anni si è cercato di rispondere a quella crisi e soprattutto all'interno dell'Europa attraverso le politiche di austerity e attraverso l'imposizione e una accelerazione dei processi di sfruttamento del lavoro di smantellamento del welfare pubblico di politiche fiscali regressive che però non hanno dato i risultati sperati e non potevano darli ed era nell'ordine delle cose che non potessero ottenere questi risultati per cui si è cercato di porre rimedio attraverso politiche espansive monetarie le politiche del quantitative easing ha iniziato la Federal Reserve già con l'elezione di Obama nel 2008 e poi con un certo ritardo anche la Banca Centrale Europea sotto la direzione di Draghi che nel 2010-2011 all'indomani della crisi dei debiti sovrani e soprattutto dopo che i tentativi di opposizione rappresentati essenzialmente dalla Grecia sono stati zittiti si è proceduti a politiche monetarie espansive cercando di ricreare quelle condizioni perché i mercati finanziari che potevano ottenere quelle enorme liquidità dovute alla creazione di monete grazie alle politiche monetarie espansive potessero recuperare quel ruolo di dispensatore di risorse sulla base delle gerarchie economiche dell'epoca questo è stato un passaggio importante che credo che pochi sarebbe da valutare adesso a posteriori perché se non lì poi ovviamente sono pieni le forze si sa di più ecco insomma adesso non volevo citare l'ariosto ma non mi è venuta bene ma è stato importante perché questo passaggio tra il 2007-2008 e l'uscita di quella crisi qui ha favorito nuovi meccanismi, nuove direzioni nel processo di accumulazione e creazione di profitto è nato e si è sviluppato in maniera stabile quello che oggi definiamo il capitalismo delle piattaforme termine che prima della crisi del 2007-2008 non veniva assolutamente utilizzato né poteva essere utilizzato c'era stato un processo di innovazione tecnologica molto forte dovute al paradigma digitale eccetera ma lo sviluppo di queste nuove tecnologie legate agli algoritmi legate all'industria dei big data legate al controllo delle forme di comunicazione far sì che la vita venisse messa direttamente a valore e non tramite l'attività lavorativa come era il capitalismo cognitivo del decennio precedente ecco questa crisi ha evidenziato questo passaggio la situazione pandemica io preferirei chiamarla sindemica forse perché è collegata anche ai meccanismi di sfruttamento delle risorse e di espropriazione che il capitalismo grazie alle piattaforme è in grado di fare in maniera sempre più pervasiva ha fatto capire che questo meccanismo di sviluppo di accumulazione basato essenzialmente sullo primario della finanza non era comunque sufficientemente adeguato per quelle che erano le esigenze dei settori trainanti l'accumulazione capitalistica globale e qui assistiamo a una nuova svolta nella politica economica se l'uscita della crisi del 2007-2008 è stata una politica monetaria espansiva oggi l'uscita della crisi dell'emergenza sanitaria può essere caratterizzata dalla ripresa di una politica espansiva di tipo fiscale esattamente l'opposto di quello che erano state le politiche di austerity all'indomani del 2007-2008 che hanno contrassegnato e hanno stabilizzato un rapporto di potere tra capitale e lavoro tra fasce della popolazione miliambienti e fasce della popolazione più ricche sempre minoritarie e sempre più concentrate diciamo e qui è da vedere cosa succede adesso perché questo è l'effetto di queste politiche fiscali espansive consideriamo il piano di Biden che è stato approvato pochi giorni fa di 1200 miliardi di dollari per la ripresa dell'economia esternitense il piano Next Generation Europe e i vari piani nazionali di resilienza e di ripresa che stanno per essere approvati a livello europeo dovrebbero favorire una politica fiscale espansiva quella che però ha delle connotazioni completamente diverse da quella che i libri di testo economici definiscono politica fiscale espansiva ovvero un intervento di spesa pubblica statale di finanziamento di investimenti e di sostegno a reddito il recovery plan e il PNR di cui oggi stiamo discutendo segnano una svolta nel tipo di politica fiscale espansiva lo Stato e in questo caso l'Europa ricorre ai mercati finanziari per finanziare piani di investimento pubblico ma lascia la gestione e la governance di questi investimenti alle imprese private e soprattutto alle grandi corporation che si sono arricchite proprio grazie alla situazione pandemica oggi le cinque società maggiormente capitalizzate nella borsa di Wall Street quelle che sono note sotto l'acronimo GAFAM Google, Alphabet, Microsoft, Facebook e Amazon per intenderci hanno ormai una capacità di condizionamento e di organizzazione delle tipologie lavorative di portata inusuale nella storia del capitalismo da Adamo Smith ad oggi di fatto e questo è possibile perché queste società hanno usufruito di politiche fiscali nei confronti dei redditi da impresa molto favorevoli e adesso possono usufruire degli investimenti con soldi pubblici che vanno a finanziare i processi di accumulazione privata non voglio anticipare delle cose di cui potremo parlare dopo ma il piano nazionale di resilienza e di ripresa italiano così come quello degli altri paesi europei sono caratterizzati in una filosofia dell'intervento pubblico che va sotto il nome di New Public Management cioè che significa applicare i criteri dell'efficientismo privato e neoliberale alla gestione di soldi pubblici non è niente di nuovo la regola del capitalismo è sempre stato quando ci sono dei guadagni dei profitti questi vengono privatizzati quando ci sono delle perdite queste vengono socializzate bene c'è stato chiarissimo nel delineare le condizioni oggettive non particolarmente favorevoli nelle quali ci troviamo però giustamente anche io so per tua impostazione hai sempre tenuto presente anche il versante soggettivo in particolare il versante soggettivo delle lotte che si contrappongono poi a questo tipo di tendenze che come tu benissimo dicevi sono tendenze all'aumento delle disuguaglianze economiche ma anche sociali nel senso più ampio insomma per cui noi da questo stesso spartiacque della crisi finanziaria del 2007-2008 abbiamo visto emergere tutti i vari movimenti degli occupai abbiamo visto tutta una serie di lotte sul posto di lavoro qua in Italia in particolare quelle della logistica dei rider ma insomma in tutti i settori e abbiamo visto anche un affermarsi molto netto un riaffermarsi delle lotte al punto di riproduzione se pensiamo nel 2019 da un lato c'erano tutte le lotte della popolazione surplus in tantissimi paesi dal nord Africa alla Francia all'America Latina e dall'altro lato c'è stato questa forte spinta da parte degli scioperi climatici e di non una di meno i movimenti transfeministi allora secondo la tua prospettiva qual è un modo di vedere le connessioni tra tutte queste varie mobilitazioni e qual è insomma la possibilità di andare ad aumentarli e da aumentare queste stesse connessioni in modo da uscire dalla crisi in cui ci troviamo in un modo piuttosto che nell'altro ma oggi la situazione credo che sia caratterizzata ad un'elevatissima complessità anche dal punto di vista dell'espressione delle diverse eterogene soggettività che si muovono a livello globale c'è un paradosso che stiamo vivendo la globalizzazione sembrava o almeno è stata ritenuta tale da creare forme di omogenizzazione nell'organizzazione dello sfruttamento del capitale sul lavoro per cui le modalità del lavoro in Italia parliamo il lavoro dei migranti il lavoro delle donne il lavoro nella logistica ma anche il lavoro più tradizionalmente inteso delle fabbriche manifatturiere diventava non troppo dissimile dalle condizioni di lavoro in Sud America nei paesi cosiddetti di nuova industrializzazione pensiamo alla Cina all'India la stessa Russia però questo livello di omogenizzazione nelle condizioni dello sfruttamento è dato origine a un'eterogeneità di soggettività questo credo che sia un punto problematico perché è necessario un processo di ricomposizione è un azzardo quello che sto dicendo nel senso che se i movimenti post crisi 2008 2009 pensiamo ai movimenti spagnoli del Kingsham pensiamo al movimento dell'Indianos pensiamo a Occupy Wall Street pensiamo anche ai movimenti dei paesi del Nord Africa dalla Tunisia all'Egitto alla Turchia eccetera eccetera hanno tentato di ricomporre all'interno di un quadro di rivolte di lotta contro le condizioni che vivono in quel momento beh oggi credo che ci troviamo di fronte agli albori di nuove forme di conflitto queste nuove forme di conflitto sono più particolareggiate più specifiche e sono forme di conflitto che non interessano soltanto il mondo del lavoro ma interessano la vita nella sua complessità e abbiamo i movimenti per i diritti civili del movimento LGTB i movimenti transfeministi che non sono movimenti solo per i diritti civili sono anche movimenti di carattere di reivindicazione economica e di autodeterminazione economica abbiamo i movimenti in alcuni paesi pensiamo a quello che sta succedendo nel Cile recentemente che hanno a che fare anche con le modalità di governance di un processo costituente pensiamo alle lotte più specificamente del lavoro che hanno interessato i geligian in Francia i movimenti della logistica in Italia e altri movimenti che si muovono per esempio sul discorso del diritto al reddito e del basic income che si sono sviluppati negli Stati Uniti nel Canada ma anche nel nord Europa qui siamo in una fase embrionale perché ci sono tutta una serie di pullazioni di soggettività in lotta che necessitano una ricomposizione il problema è che il soggetto rivoluzionario se possiamo usare ancora questa espressione è un soggetto differenziato e molteplice e richiede quindi degli elementi di ricomposizione io personalmente credo che oggi se si deve ragionare in questi termini un elemento comune pur nella diversità delle forme di espressione anche di partenza di condizioni che va dal lavoro migrante al lavoro cognitivo iper sfruttato alle lotte degli indigeni a tutto quel magma quella marea che oggi vediamo sia una lotta per un nuovo tipo di welfare e intende il welfare non nel senso anglosassone anglosassone del termine così come la tradizione europea ce l'ha importato diciamo ma nel senso latinoamericano del termine il bienestar lo stare bene lo stare bene significa essere padrone della propria vita e avere il diritto alla scelta della propria vita i movimenti femministi sono all'avanguardia a questo punto di vista perché quando parlano di reddito di autodeterminazione intendono proprio creare le possibilità perché ogni donna in primis rispetto alla violenza economica e alla violenza maschile ma anche ogni uomo maschio possa avere tutte quelle possibilità per autodeterminarsi sulla base che sono quelle che sono le sue soggettività e la propria ricchezza che ognuno di noi ha nel proprio agire è una lotta contro l'individualismo e l'individualismo comportamentale che riconosce l'individualismo delle persone all'interno di una sfera solidale cooperativa oggi il capitalismo delle piattaforme che è diciamo il modello di organizzazione di estrazione di valore dominante a tutte le latitudini del globo sfrutta la cooperazione sociale e la nostra compartecipazione alle relazioni i soldi che fanno Amazon che fa Facebook che fa Google eccetera sono basati sul fatto che noi siamo i primi produttori del loro valore noi siamo persone ricche si ritorna un po' il discorso che si diceva ai tempi della Medei che il precario non è una la precarietà non è una condizione da sfigato è una condizione di ricchezza che deve farsi valere deve riconquistare quegli strumenti perché questa sua potenzialità possa liberamente in maniera autodeterminata esprimersi ecco oggi le lotte sul welfare sono la frontiera che noi credo dovremmo agire e allora qui si pone la questione che non apro adesso perché richiederebbe molto tempo qual è il tipo di welfare che vogliamo che desideriamo e che ci permette di autodeterminarci le nostre scelte e di avere di vivere bene nel senso del bienestar di non essere depresso è indicativo che nelle mobilitazioni cilene degli ultimi tempi è diventato molto note e ha fatto colpo questo slogan non è depressione ma è capitalismo ci fanno pensare che il covid la pandemia ci porta all'individualismo e alla depressione perché vogliono farci distolgere dal fatto che questa situazione è figlia e diretta conseguenza del modello di accumulazione e di sviluppo che è oggi dominante e che non viene messo in discussione bene sei stato chiarissimo e ti ringrazio il tempo è giunto per muoverci verso il dibattito di conseguenza io mi unisco con Andrea a ringraziare tutte le realtà che come sempre rendono possibile questo festival e invito tutti quanti a spostarsi assieme a noi verso il secondo palco grazie mille Andrea e a presto su questi scenari e un saluto a tutti a tutti grazie 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 a tutti